In questo breve video andiamo a parlare del mito della Bigalata. Il mito della Bigalata è uno dei miti più famosi di Platone e viene presentato all'interno di uno dei dialoghi più famosi di Platone, che è il Fedro. Il Fedro è un dialogo famoso per diversi motivi. Innanzitutto è un dialogo della maturità, quindi è un dialogo che già presuppone la teoria delle idee. Ed è un dialogo che verte, così come il simposio, sul tema dell'amore. All'interno di questo dialogo viene esposto, accanto al mito della Bigalata, anche il famoso mito di Teot, che è il mito sulla preminenza dell'oralità sulla scrittura. Il dialogo è famoso anche perché è uno dei dialoghi artisticamente più riusciti di Platone. È un dialogo all'interno del quale Socrate si confronta con Fedro e si discute del rapporto fra amore e retorica, verità e retorica. Uno dei tratti più interessanti comunque del dialogo è l'esposizione del mito della Bigalata, che tratta il tema dell'anima. In realtà Platone aveva affrontato il tema dell'anima in diversi altri passi della propria produzione, in particolar modo nella Repubblica e nel Fedone. E allora, se teniamo insieme i passi delle opere, possiamo dire che quando Platone si riferisce all'anima, ad opera il termine psiuchè. Ora, psiuchè significa anima ma significa anche mente e quindi la radice è diversa dalla radice che usiamo noi in italiano, che è animos, che significa vento. La psiuchè però non corrisponde alla sola ragione, non corrisponde al solo logos. La psiuchè è formata da tre elementi che sono connaturati, che crescono insieme, stando ai termini che usa Platone. Abbiamo il logos, che è la ragione e che vedremo nel mito della Bigalata, corrisponde all'auriga e a sede nella testa. Poi abbiamo il tiumos, che noi traduciamo ira, però diciamo in greco antico significa anche coraggio e la sede dei sentimenti che provo col cuore. E nel mito della Bigalata il tiumos è rappresentato dal cavallo nobile, dal cavallo buono, perché appunto il coraggio o l'ira, quindi quella che potremmo definire la parte irascibile dell'anima, è quella parte che accompagna la ragione provando emozioni verso ciò che la ragione vuole. Poi abbiamo l'epidemia, l'epidemia la potremmo tradurre il desiderio, è il cavallo non domo, quindi quel cavallo che fa difficoltà a lasciarsi domare dalla ragione. Ora è chiaro che nel mito della Bigalata l'auriga rappresenta la ragione che vuole condurre tutta l'anima verso il mondo delle idee, mentre invece dei due cavalli, l'uno quello bianco accompagna la ragione, quindi vuole contemplare le idee, e poi abbiamo l'altro cavallo che invece è non domo dalla ragione, che vuole soddisfare i propri desideri e che quindi ha bisogno del corpo, vuole la reincarnazione. Ora, questa teoria platonica innanzitutto presuppone l'orfismo e il pitagorismo, quindi presuppone l'idea che l'uomo abbia un corpo e abbia anche un'anima. In questo senso è proprio il mito della Bigalata che ci permette di fare proprio questa interpretazione, tant'è che infatti in questa parte che è, diciamo così, la seconda parte, il secondo brano del mito della Bigalata, Platone dice chiaramente, ora bisogna spiegare come gli esseri viventi siano chiamati mortali e immortali, tutto ciò che è anima si prende cura, quindi l'epimeleia, che sarà poi uno dei temi centrali sia in Platone, sia poi tradotto in cura anche per esempio in Seneca, si prende cura di ciò che è inanimato e penetra per l'intero universo assumendo secondo i luoghi forme sempre differenti. Così, quando si è perfetta alata, l'anima spazia nell'alto e governa il mondo, ma quando un'anima perde le ali, essa precipita fino a che non si appiglia a qualcosa di solido, dove si accasa e assume un corpo di terra che sembra si muova da solo per merito della potenza dell'anima. Questa composita struttura d'anima e di corpo fu chiamata essere vivente e poi definita mortale, in effetti uno dei termini più ricorrenti per indicare l'essere umano è anche mortale, Brotos. La definizione di immortale invece non è data da alcun argomento razionale, però noi ci preformiamo al Dio, senza averlo mai visto né pienamente compreso, come un certo essere immortale, completo di anima e di corpo, eternamente connessi in un'unica natura. Quindi qui Platone dice chiaramente che l'anima è la parte immortale dell'essere vivente e quindi è chiaro che alla morte si disfa soltanto il corpo, l'anima ritorna libera e tornando libera può andare nella propria sede naturale, quindi verso l'alto, e là può contemplare il mondo delle idee. Quindi è evidente che se volessimo proporre delle ermeneutiche, quindi delle interpretazioni di questo testo, dovremmo innanzitutto partire dal fatto che qui Platone chiaramente nella prima frase sostiene che siamo di fronte a un mito, perché dice dell'immortalità dell'anima si è parlato abbastanza, ma sulla sua natura, dice il traduttore, sulla sua idea, dobbiamo dire questo. Dire che cosa essa sia, Oion Menesty, cioè di che pasta sia fatta, come sia fatta, è qualcosa che può fare soltanto un Dio. Noi possiamo parlare Ode e Eoiken, cioè a quanto sembra, Eoika è il presente perfetto e significa sembrare, quindi noi possiamo soltanto raffigurarcela, quindi basarci su ciò che a noi sembra, infatti dice Eoiketo, che è un imperativo sempre di Eoika, di questo verbo sembrare, raffigurare, e però definisce quest'anima, come vedete, un siun fiuto d'unamei, d'unamei vuol dire potenza, siun fiuto, quindi una potenza connaturata, siun fiutos, siun fiutos viene da siun che vuol dire con, è un aggettivo, la cui radice fiutos viene da fiuo, che vuol dire sia fondamentalmente crescere, venire su, è termine che si usa per tutti gli esseri viventi, per le piante, da cui viene pure la parola fiusis natura, e quindi siun fiutos ci dà l'idea che in quest'anima le tre parti siano connaturate, quindi è vero che siamo di fronte ad un'anima tripartita, però un'anima tripartita in cui nessuna delle tre parti è possibile far fuori, nel senso che tutte e tre le parti debbono necessariamente venire su insieme, non è possibile farne fuori una. Allora abbiamo innanzitutto l'ultimo aspetto su questo breve passo, è che Platone dice chiaramente che per poter dimostrare che cosa sia l'anima non ha gli strumenti necessari, quindi può fare ricorso soltanto a quanto è oiken, cioè a quanto sembra, e quindi anche qui in questo che abbiamo detto che è il dialogo sulla preeminenza dell'oralità fa un uso del mito che potremmo definire anche ostensivo, nel senso che adopera il mito per dirci come stanno le cose. E allora potremmo avanzare tre proposte di ermeneutica. La prima è una proposta anche abbastanza banale, insomma, cioè il dire che questo mito ha una funzione descrittiva, quindi il primo compito a cui assolve è quello di descrivere che cosa è l'anima tramite il mito, e quindi è una funzione che potremmo indicare insieme sia come descrittiva sia come psicologica. Badate bene che psicologia in senso etimologico vuol dire logos, logia, quindi discorso sulla psuche, sull'anima, quindi innanzitutto ha la funzione di dirci che cosa è l'anima, su questo nessuno può essere contrario, è evidente, ci descrive quest'anima quindi tripartita, come l'abbiamo definita, in cui c'è questa parte irascibile e l'altra parte che è concupiscibile. Poi abbiamo invece una proposta di ermeneutica epistemologica. Allora, è chiaro che il mito della bigalata è un mito che presuppone la teoria delle idee e presuppone anche l'immortalità dell'anima, però il fatto che presupponga la teoria delle idee fa sì che questo mito abbia anche una possibilità di lettura epistemologica, perché? Perché noi dobbiamo ricordare che tutto il percorso di Platone, a partire dalla lettera settima, è un percorso eminentemente politico, quindi Platone fin da giovane, mentre tutti si aspettavano e anche lui credeva che si sarebbe dedicato alla vita politica, si rende conto di non poterlo fare, perché si rende conto che le fazioni allora operanti ad Atene, pure diverse fra loro, avevano in comune il fatto di non avere una chiara percezione di che cosa sia il bene. E quindi Platone da lì inizia a guardare che cos'è la conoscenza, quindi l'agnoseologia, e si accorge che ci sono diversi gradi di conoscenza, questo l'abbiamo visto nella Repubblica, nel mito della caverna. Quindi essendoci diversi gradi di conoscenza che vanno, diciamo così, dalla doxa all'episteme, una conoscenza ben fondata, quindi un episteme, è possibile soltanto laddove si arrivi a contemplare l'eidos o l'idea. Quindi questo mito ha anche un forte valore epistemologico, perché torna a ribadire che, sebbene esistano diversi gradi di conoscenza, e quindi Platone, a differenza di Eraclito o di Parmenide, non ritiene che la doxa sia assolutamente mendace e che quindi da una parte ci sia la doxa, quindi l'opinione dei sensi, che comunque è menzognera e dall'altra parte ci sia la leteia, che si raggiunge con la ragione e quella solo è la verità. Però anche Platone individua dei gradi di conoscenza e per lui la conoscenza suprema è arrivare alla contemplazione dell'idea o dell'eidos, cioè della forma. E quindi il mito ha anche una funzione epistemologica, perché appunto ci dice come è possibile per il Brotos, per il mortale, arrivare a contemplare la forma. È chiaro che la contemplazione delle forme, dal momento che le forme sono trascendenti, cioè stanno fuori dal mondo, è possibile all'uomo solo ammettendo la teoria pitagorica della metempsicosi, quindi solo ammettendo il fatto che alla morte dell'uomo il corpo si distrugga mentre invece l'anima è liberata da quelle catene e allora questa anima può andare al proprio sito naturale e contemplare il più possibile le idee. E' chiaro che in questo il mito è molto ben pensato, nel senso che la ragione vuole rimanere il più possibile a contemplare, in questo è appoggiata dal cavallo bianco, dal cavallo nobile che comunque è la parte, come dire, irascibile, ma è ostacolato invece dalla parte concupiscibile che invece vuole il prima possibile ritornare nel corpo per soddisfarsi. A questo punto la funzione epistemologica però deve far proprio un altro aspetto della conoscenza. A questo punto non esiste per Platone l'invenzione, l'unica forma di conoscenza che abbiamo, conoscenza ben fondata, quindi di episteme che abbiamo, è la reminescenza, quindi è l'anamnesi. Cioè ogni conoscenza della forma per l'essere umano non può essere un'invenzione dell'essere umano ma deve essere un ricordo di quella forma eterna, immutabile, unica, quindi una, collocata nel mondo delle idee. Grazie.